L'epilessia è un disturbo cronico cerebrale caratterizzato da crisi che consistono in scariche elettriche anomale e non controllate, originate nel contesto della sostanza grigia cerebrale corticale che interrompe transitoriamente la normale funzionalità cerebrale, provocando alterazioni dello stato di coscienza e violente contrazioni involontarie della muscolatura. Si tratta di una patologia che storicamente si accompagna a un forte stigma sociale che genera isolamento e disagio in chi ne ha affetto. Proprio per ripristinare una giusta narrazione dei fatti, nel giorno internazionale dell'epilessia, che ricorre il 12 febbraio, l'Università d'Annunzio e LAIE, Associazione Italiana Epilessia, con il patrocinio del Comune di Chieti, hanno organizzato il convegno dal titolo Narriamo l'epilessia, con l'obiettivo di sensibilizzare enti, istituzioni e cittadini nei confronti di una patologia molto diffusa, come spiegato da Liborio Stuppia, rettore dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. L'epilessia è una patologia che va innanzitutto liberata dagli stigmi che in qualche modo la condizionano. Bisogna capire che la presa in carico del paziente epilettico è qualcosa che riguarda non soltanto il medico ma riguarda la società in generale e bisogna sempre di più lavorare perché ci sia un interesse collettivo rispetto a queste malattie e non soltanto l'interesse dello specialista. Negli anni la medicina ha fatto notevoli passi avanti nella cura, migliorando e semplificando la vita di chi è affetto da epilessia. Ma perché il trattamento sia ancora più efficace è importante diagnosticare subito la patologia, come dichiarato dal professor Francesco Chiarelli, direttore della clinica pediatrica dell'ospedale clinicizzato di Chieti. L'epilessia è una delle malattie più frequenti e più importanti sia nei bambini che negli adulti. Interferisce in maniera significativa con la vita di tutti i giorni di una persona, di un bambino in particolare. Circa il 3-5 per cento delle persone, in particolare dei bambini, possono avere crisi epilettiche. Molto importante anche ricordare che sono stati fatti grandi progressi nel settore della ricerca scientifica sia per l'individuazione dei geni che predispongono all'epilessia sia per il trattamento i nuovi farmaci che sono sempre più disponibili e sempre più personalizzati. Ma se da un lato si registra l'evoluzione scientifica della cura, dall'altro resta ancora oggi il vuoto normativo che complica la vita di chi è affetto da epilessia e contro cui si batte l'aie, come spiega la referente interregionale per Abruzzo e Molise, Maria Pia Pierfelice. Sono ancora troppo pochi i diritti esigibili dalle persone che soffrono di epilessia. Domani a Roma alla Camera dei Deputati ci sarà una conferenza stampa perché come Associazione Italiana Epilessia stiamo chiedendo che passi una legge, una proposta di legge che è ferma in Senato, che potrebbe essere un testo unico che va a normare quella che è la quotidianità dei pazienti che soffrono di epilessia perché ancora nelle scuole, nei luoghi di lavoro, chi soffre di epilessia non è al sicuro, si vergogna e ha difficoltà a poter realizzare appieno la propria vita.